Il campo basso non riesce a scardinare la retroguardia della vastese di D'Adderio che a Selvapiana gioca una gara molto valida sotto il profilo agonistico. Rosso-Blu che peccano di determinazione come affermerà Cudini a fine partita. È un campo basso tipo con il ritorno di Dalmazzi al fianco di Menna, dirige il signor Cutrufo di Catania. Dopo quattro minuti il destro a giro di Esposito batte non lontano dal palo. Rosso-Blu sul taccuino anche al settimo quando il cross di Ladu viene mancato da Menna a Selvapiana. Una vastese ordinata e razionale che al ventesimo va vicino al gol con un tiro di Di Prisco ben respinto da Raccichini. Al ventiquattresimo tutta la velocità di Vanzanna a sinistra che prova a battere Boccanera, autore di una buona parata all'altezza del primo palo. Mentre al ventiseiesimo contrasto in area di rigore fra Dalmazzi e Mamona la gestualità dell'arbitro fa intendere che è tutto regolare. Nelle fila ospiti dal trentunesimo fuori per infortunio Martinez dentro le noci. Uno dei ex di turno al trentatresimo scontro a sinistra fra Ladu e Mamona. Giudicato regolare in area si libera al tiro Bernardi che viene respinto in casa Rosso-Blu. Un solo minuto dopo dal cross di Vitali c'è forse una spinta di Di Filippo ai danni di Cogliati. Proteste del numero nove di casa che mostra la maglietta tirata ma Cutrufo di Catania non fa una grinza. Quasi al trentottesimo improvviso tiro defilato di Obodo, Raccichini si ripara in calcio d'angolo. È una gara molto equilibrata che tuttavia la capolista non riesce a sbloccare. Nel finale di tempo al quarantottesimo ultimo minuto di recupero il pallone raccolto da Bontà ma con una mano servito poi a Candelori che viene interrotto dall'arbitro proprio per il fallo pregresso del centrocampista di casa. Finisce la prima frazione con un giusto fareggio 0-0 nella ripresa. Ecco le immagini di Francesco Di Rienzo oltre alla pioggia poco da segnalare se non un campo basso che soffre la vastese specialmente nel reparto di centrocampo. Al dodicesimo dopo il cross di Vitali dalla destra Boccanera deve fare un passo indietro per preservare la propria porta. La palla goal più importante del match eccola al quattordicesimo con Cogliati che si fa in quattro e smista da sinistra un pallone calciato da Esposito e parato incredibilmente da Boccanera. La palla è raccolta da Ladu che ha il tempo di prendere la mira e di calciare. Però alto, Cudini cambia e rinuncia ad un centrocampista dal ventottesimo dentro Rossetti al posto di Ladu da Derio replica al trentunesimo con gli ingressi di Cardinale e Martiniello al posto di Di Prisco e Bernardi. Trenta secondi dopo il suo ingresso mancino alto di Martiniello mentre al trentaduesimo il cross di Candellori diventa un tiro che Boccanera deve sventare. Entra anche Di Domenico Antonio al posto di Cogliati intorno al quarantesimo mentre al quarantunesimo contrasto in area fra Vitali e Cardinale. Il direttore di gara si porta a colloquio con l'attaccante Rosso Blu per redarguirlo. Al novantesimo nei Rosso Blu dentro De Biase per Vitali. Al novantunesimo una delle residue possibilità per la squadra di Cudini con l'esterno sinistro di Van Zan che si spegne sul fondo. Un campo basso con meno palle gol del solito sul Tacuino non va oltre il pareggio a reti bianche contro gli abruzzesi della Vastese e non riesce ad approfittare del pari del notaresco in casa del Matese. La società farà sentire la sua voce in Lega per la mancata contemporaneità stabilita per i recuperi proprio dei Rosso Blu e della vice capolista notaresco.